Salve a tutti e benvenuti in questo video fatto di corsa così perché mi sto finendo di preparare che devo partire E si va all'IFA 2014 per la prima volta nella mia vita Allora, mi avete chiesto di fare un video, un cosa ne penso, scusate l'angolo di ripresa ma devo fare anche un video molto molto breve quindi sarò brevissimo Allora, Galaxy Note 4, bello, 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 grosso Bello, grosso, 8,5 mm, 176 grammi, io sto sudando come un animale, perdonatemi ragazzi ma pur di fare il video insomma Bello, 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 mi è piaciuto parecchio, veramente anche esteticamente, mi piace, lo vedo un po' Prende un po' una linea come il Galaxy Alpha secondo me in qualche modo perché ha questo profilo un po' strano, non so se riuscite a vederlo qui Questo profilo qui che effettivamente riprende secondo me, andate a vedere l'articolo e si vede meglio la foto Caratteristiche tecniche, un mostro ovviamente si sapeva, quad HD da 5 pollici e 7, io sto, potrei fare un pacco di sale grosso Anzi di sale fino da un chilo con tutto il sudore sto Tirando fuori allora, il discorso è che è un 5 pollici e 7, è grosso ragazzi, è grosso, quindi è destinato a un determinato target di persone Secondo me, io penso che lo apprezzerei però non so se lo riuscirei ad utilizzare per troppo tempo Non lo so, finché non lo vedo, cioè tra un paio di giorni, non posso dirvi nulla Quad HD, non lo so, fino a ieri sul G3 il Quad HD è stato inutile Non so adesso, è stato inutile non secondo me, io ho detto tutto o tutt'altro Però adesso non so se diventerà utile tutto di colpo Comunque sia, secondo me è un'ottima cosa 2,7 GB quad core, 1,9 GB perché quando si è capito qua tra l'Exynos e lo Snapdragon 805, quello che è Che dire ragazzi, è più una cosa software, soprattutto l'innovazione secondo me più grande sta nella fotocamera Perché 16 megapixel con stabilizzazione ottica smart, loro la chiamano Che se non ho capito male, unisce anche lo scatto multiplo alla stabilizzazione ottica Quindi una stabilizzazione veramente con le palle speriamo Ed è la prima stabilizzazione su Samsung che io sappia Quindi è una bella cosetta, questa mi attira anche perché la fotocamera dell'S5 è eccezionale Quindi il problema dell'S5 è in notturna Però la stabilizzazione ottica potrebbe aiutare a fare foto più luminose di notte Perché lo scatto potrebbe essere un pochettino leggermente più lungo ed entra più luce Quindi è tutto da vedere, è tutto da vedere 4 megapixel per farsi selfie dal cesso Con la funzionalità di riuscire a scattare strisciando su questo sensore Che finalmente trova un senso perché fino ad ora non l'ha usato mai nessuno Neanche chi se l'ha inventato Devo chiudere velocemente Funzionalità per il pennino veramente ottima Il multitasking nuovo, il multi window è veramente spettacolare da quello che ho visto Si riducono le finestre, si spostano È un mix tra il multi window e la... non so come si chiamava quella floating window Quello che cazzo era È bella, 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 bella Veramente delle funzioni che tra l'altro su un 5 e 7 cominciano a diventare utili Perché su schermi più piccoli no Galaxy Note Edge, piccola parentesi Il Note Edge è un dispositivo secondo me un esercizio di stile come si dice Perché non so, non so Boh, non so dirvi sull'Edge un giudizio È una figata assurda, questo è poco ma sicuro Però il problema è che bisogna vedere quella porzione di schermo come verrà sfruttata e chi la sfrutterà Nel senso che se mi dà solo la mail e il calendario integrati di Samsung io non ci faccio nulla Se è possibile, cioè sarà possibile ma se fanno, se gli sviluppatori abbracceranno quest'idea Potrebbe diventare una cosa molto più carina da utilizzare Non so quanto potrebbe essere più delicato il dispositivo con uno schermo che gira di lato Ma penso di sì Però mi piace il fatto che io posso tenerlo appoggiato e vedere le notifiche senza neanche sporgermi sul telefono Però, beh, non lo so La cosa che mi piace è che non è stato fatto un telefonino con queste funzionalità ma con un hardware di merda Ma con un hardware molto simile a quello del Note 4 Stessa fotocamera con stabilizzazione ottica Sono andato indietro, ho aperto un video di Minecraft, non so il perché Tornami indietro, brutto iPad di merda Ok, eccolo 5-6 pollici, leggermente più piccolo ma solo perché secondo me fa la curva E niente ragazzi, legge anche questo, voglio vederlo dal vivo Per quanto riguarda il Gear invece, il Gear S non mi ispira moltissimo Forse dal vivo sarà migliore e sarà tutto quello che volete Però così a vederlo non mi ispira tantissimo perché mi dà la sensazione di essere pesante come il Gear E io il Gear l'ho odiato proprio per il peso Non lo so, gli smartwatch per adesso l'unica cosa che fanno veramente sono Cioè è dare notifiche, è l'unica cosa che fanno bene Perché usare le applicazioni sui smartwatch ancora è un po' macchinoso e un po' limitato Quindi tocca vedere, secondo me il fatto di non aver abbracciato Android Wear è uno sbaglio da parte di Samsung Che se ne pentirà amaramente Invece l'Asus ZenWatch è una figata assurda Anche se a me non piace, cioè non terrei un orologio col cinturino in pelle o quello che è Cuoio pelle Però esteticamente è veramente molto molto bello Per concludere, come già sapete sarò all'IFA Seguite il blog degli Stocchisti, gli stocchisti.it barablog C'è una sezione chiamata IFA 2014 E lì andranno a finire tutti gli articoli scritti sull'IFA E vi assicuro che ne arriveranno una marea Quindi seguitemi lì sopra su Facebook, su Twitter Ovviamente iscrivetevi al canale perché alcune cose come questo vlog E come tutti gli altri vlog che probabilmente farò o cazzate che pubblicherò Oppure il video finale No, non ve lo dico il video finale su cosa sarà Vi lascio immaginare perché qualcuno già c'è arrivato E non mi rubate l'idea E niente, quindi Alcune cose verranno pubblicate solo sul canale di YouTube Quindi iscrivetevi, ciao E io parto, ciao